...dove sono pure in vita capace... ...e se io e io che io mi sono... ...dove essi... ...fossi figli di a Cristo... ...di ogni unico... ...so spero... ...a un solo del diventato del po' ...sai con la volontà dell'esalza... ...dove tutto si riescono a scoprire la nostra vita... ...dove essi... ...il bene... ...e per fuori dalla crisi della morte... e questo mezzo è il terreno più frattivo di lui. Lavoro di lui sulla presa dell'esercizio, subito il cuore si immagina la sua presa. E in mezzo, il mio libro, resterà luce della presa, anche nel dipinto il caravaggio, al testimonianza del consigliamento cristiano, in un quadro del mare, e in ogni modo, e in ogni modo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. bravo. Grazie a tutti.